Be 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 Du 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 Pow hatadadadada Pow hatadadadadadada Pow hawapadadadadada Bella a tutta la serie di Ganga99 Siamo qui con un nuovo video Oggi dopo tantissimo tempo siamo ritornati con un vlog Allora questo qua era un vlog Un po' così perchè sinceramente Volevo parlare con voi di un paio di cosette Vabbè, a parte ciò di stare che c'ho la giacca per coprire il pigiama Perché se no ci sono i miei amici che mi dicono sempre Eh, regista il pigiama, metto la giacca, così lo copro e non mi dite più nulla Poi mi sono messo il cappello perché così mandava, non lo so neanche io perché Allora, in questo vlog volevo parlare più che altro del canale Perché in questi ultimi tempi Adesso voglio ringraziare perché siamo arrivati a 2500 iscritti E di ciò sono molto contento Meno 500 e 3000 forse che ce la facciamo Però vi volevo parlare un attimo dell'attività del canale Perché i video in generale stanno andando a bene Solo che non stanno facendo i like che io spero Infatti tipo nell'ultimo video, quello là che ho fatto con Calab Dello sniping in live Ho fatto solo 30 mi piace Vabbè, sono sempre 30 mi piace Però per un canale di 2500 iscritti almeno ne dovrei fare 50-60 In teoria di più, però io mi accontento Perché alla fine non sono uno che pretende tantissimo E questa cosa mi ha fatto rimanere un po' così Perché diciamo mi ha lasciato la mare in bocca Perché non riesco a capire se i video vi piacciono veramente o meno Perché va bene che ve li guardate tutte le cose Mi commentate, di ciò sono contento Però non riesco a capire se il contenuto vi piace Perché quei 30 mi piace Cioè non mi fanno capire se quel video dello sniping in live vi sia piaciuto o meno Sarà piaciuto a 30 persone Ma tutti gli altri 150-170-170 che hanno visto il video Mica posso sapere se gli è piaciuto o meno Però di sì ovviamente Però magari me lo dite nei commenti Quindi mi raccomando regà Una cosa che vi dico anche È di praticamente di attivare la campanella del canale Perché come sapete YouTube non manda mai nella vita le feed Quindi di conseguenza mi piacerebbe molto se voi attivaste la campanella In modo che vi arrivano tutte le feed dei miei video E state a posto Poi ovviamente ho intenzione anche di fare un canale Telegram Anzi lo farò tra oggi e domani In cui diciamo vi darò aggiornare su tutti i video che escono Perché il gruppo va bene Però diciamo che in questi ultimi tempi In quel gruppo Telegram che c'ho A volte trovi gente che si insulta fra di loro E sinceramente non c'ho voglia di vedere queste cose Quindi se in caso faccio un canale Telegram E vi tengo aggiornati solo sui video Poi niente Mi raccomando continuiamo così Perché continuate a iscrivervi al canale Mi raccomando a lasciare i like ai video A guardarli Perché come sapete ci sto mettendo molto Questa settimana non farò live streaming Oppure la settimana scorsa non ne ho fatte Perché appunto non ho avuto tempo Infatti oggi è domenica Oggi dovevo streamare Però sto registrando altri video per la settimana prossima In modo che invece di fare due video E una streaming Faccio tre video direttamente E mi esplico prima Magari la streaming la sposto fra due settimane Quindi i video che usciranno sarà lunedì Cioè domani questo vlog Mercoledì uscirà un altro video Che non so se è di FIFA o di Rainbow Anche se Rainbow difficilmente lo riesco a registrare Visto che non sto riuscendo a organizzarmi Con gli altri della Nubo Crew Quindi farò uscire Mercoledì il video di FIFA o Rainbow Quello che è E venerdì Faccio uscire Faccio uscire COD Se in caso Anche perché Di questi ultimi tempi Ci sto giocando abbastanza E mi sta piacendo registrarlo Oppure se questo video Raggiunge i 60 mi piace Me ne chiedo tantissimi Perché non lo faccio da tanto Vediamo se venerdì Riesco a portarvi GTA Le Nubo Corse Visto che è abbastanza tempo Che non ve le porto Quindi Questo qua era tutto quello che vi volevo dire È un vlog velocissimo Però Vi volevo un paio di cosette Niente Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Asciate tantissimi like Iscrivetevi al canale Se ancora non avete fatto In descrizione trovate il canale Di la Nubo Crew E di Frino97 Mi raccomando Passateci E niente E noi ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video